Scoppia la polemica a specchia tra l'associazione Ecospo e l'amministrazione provinciale che ha annunciato di voler abbattere una quarantina di cipressi posti lungo la strada provinciale 181 Specchia-Migiano, in quanto sarebbero fonte di pericolo per gli automobilisti di passaggio. L'associazione ha annunciato battaglia esprimendo tutto il proprio disappunto rispetto ad un'azione che non sarebbe rivolta a salvaguardare gli interessi pubblici, ma, dice, a marcare piuttosto la supremazia di apparati burocratici che dell'interesse pubblico ne fanno pezza da piedi. Tanto più che in un primo momento la motivazione adotta dalla provincia per l'abbattimento riguardava il presunto cattivo stato di salute dei cipressi in questione, tesi smentita da una successiva perizia agronomica. Oltre a questi cipressi sono stati abbattuti all'interno del comune decine e decine e decine di alberi, sono stati abbattuti sempre con il pretesto della sicurezza. Ora la provincia ha temporaneamente sospeso l'abbattimento dei cipressi, ma l'associazione non si fida ed è pronta a tutto pur di evitare quello che definisce uno scempio. Andrà a finire che noi ci stenderemo a terra per difendere questi alberi. Gli alberi sono fondamentali nella vita delle persone, nella vita dei nostri figli.